Siamo a Provaglio di Iseo per la terza tappa del cammino La Via delle Sorelle. Arriveremo a Paratico, l'ultimo paese in provincia di Brescia e la prossima sarà Sarnico in provincia di Bergamo. Ok, ciao ciao! Grazie a tutti! 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 E con l'arrivo sul ponte di Paratico terminiamo la nostra terza tappa la via delle sorelle. Ciao ciao! Ciao ciao!